ciao a tutti benvenuti di nuovo sul mio canale oggi vorrei presentarvi un mega pacco pierre che mi è appena stato consegnato dal corriere giuro che quando ho ricevuto la mail da pixie con nessuna informazione soltanto che devo aspettare un pacco quindi non mi hanno scritto ti mandiamo prodotti però per favore potresti parlarne bene sul sito no niente 00 non richiedono niente ti mandano un regalo e poi sei tu che devi decidere se parlarne bene se non parlarne se fare le foto o non fare le foto loro ti lasciano proprio fare quello che vuoi ti mandano regale basta e forse proprio questo li rende unici li rende speciali e li rende così inaspettati perché io ho ricevuto già due pacchetti da pixie è già prima volta devo dire che se mi ha visto qualcuno appena ho ricevuto il pacco da corriere ho iniziato urlare come una pazza perché sullo scatola di carta era scritto già pixie e io non ci potevo credere dicevo non ci credo io io a me me la mandano davvero era così entusiasta che non che non non stavo nella pelle spero di parlare bene spero di non mangiare troppi articoli quindi pazienza calmi se così non scrivete me lo sotto dovete avere proprio tanta pazienza primo prodotto un best seller di pixie che ormai è conosciuto in tutto il mondo e ovviamente famosissimo glow tonic è un tonico esfoliante e infatti così mi è arrivato a natale guardate che bella scatola scatola è enorme e all'interno troviamo un enorme tonico pixie confezionato in un modo favoloso e unico ovviamente vi faccio notare che sul etichetta c'è scritto beata quindi anche personalizzato questo tonic esfoliante è ormai talmente famoso che tante persone comprano confezione così grande non comprano più quelle da 100 ml 200 ml ma vanno subito su 500 tanto lo usiamo sempre veramente senza alcol è amato da tantissime blogger tantissime youtuber e dalle persone in generale quindi è un prodotto molto apprezzato sono contentissima che adesso possiamo acquistare questi prodotti anche da sephora quindi se volete anche risparmiare un pochino potete aspettare qualche sconto anche adesso c'è qualche sconto per san valentino fino 14 febbraio trovate sconto di da sephora mi sa meno 30 per cento quindi neanche poco se volete comprarvi qualcosa è un momento adatto con lo sconto perché prodotti pixie non costano tantissimo ma non costano neanche poco quindi è una via di mezzo una fascia media dei prezzi però per il prezzo che hanno qualità è ottima il brand pixie è stato inventato appena dieci anni fa quindi non tantissimo a soho da una make up artist da una truccatrice che si chiamava petra strans il brand ha i prodotti per cura della pelle ma anche i trucchi comunque la filosofia di questo brand è fenomenale perché vogliono che la pelle sia luminosa sia bellissima che incarnato sia liscio senza trucco come se avessimo passato una notte favolosa con 12 ore di sonno petra infatti ha elaborato i prodotti molto facile da usare quindi non dobbiamo averne paura con ingredienti naturali cruelty free quindi non sono testati anche su animali una cosa che apprezzano tantissimi anche io quindi a tanti vantaggi a estrazioni di tanti fiori da tante piante che agiscono sulla nostra pelle e in breve tempo vediamo effetti spettacolari i prodotti di petra spesso puntano su luminosità sulla pelle liscia sulla pelle idratata ma luminosa 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 ok adesso per non allungare perché dopo vorrei farvi vedere anche in azione alcuni prodotti apriamo il pacchetto pacchetto mi è arrivato così quindi appena me l'ha consegnato corriere sapevo già che pixi perché c'era scritto all'interno vediamo cosa troviamo un foglietto è un trus pieno pieno di trucchi guardate pixi buon voyage giuro non posso crederci che io io beata ho ricevuto queste meraviglie da petra grazie pixi grazie petra ok io quando sono felice non riesco a controllarlo lo si vede da lontano inizio a e sorridere parlare e non riesco a trattenere emozioni spero che questo non vi dispiace ma credetemi chi non sarebbe felice ricevere una trus così piena di trucchi da pixi ok adesso passa calmiamoci calmi è il momento della verità apriamo questa bellissima trus wow oh my god I just can't believe non posso crederci non posso crederci non posso crederci non posso crederci quello che adoro anche da pixi e il fatto che quando ti mandano i prodotti ti mandano questa favolosa dedica con scritto il tuo nome il tuo nome già sul tonico glow quello grande ho scritto beata sclotto nick è veramente ogni sera quando uso questo tonico lo guardo dico è mio e personalizzato è mio e adesso anche questa trus personalizzata con scritto dir beata da petra cioè non solo sul foglietto c'è la lista dei prodotti e qua c'è scritto steps quindi passaggi che dovremmo fare da 1 al 9 per primo qua c'è scritto che ci sono remove maker quindi sarebbero salviettine strucanti una cosa molto utile tante persone lo adorano nel viaggio perché non dobbiamo prendere latte o acqua micellare prendiamo semplicemente questo piccolo pacchetto lo mettiamo anche dentro la borsetta e quando vogliamo lo utilizziamo io non amo questi prodotti più di tanto non uso mai le salviettine però magari proprio quelle di pixi mi conquisteranno e da oggi in poi userò più spesso le salviettine vedremo questo vi farò sapere secondo prodotto è crema detergente è una crema nutriente formulata con fango ricco di minerali che deterge nostro viso nella pelle più forte più morbida più pulita più luminosa senza impurità questo sarebbero obiettivi di questo è in formato grande qua abbiamo camomilla abbiamo strazione di fiori sicuramente è molto utile io adesso mi sono acquistata anche una macchinetta foreo di quale vi ho parlato nell'ultimo haul sicuramente userò questo sul viso con mio mio gadget per pulizia del viso numero 3 rose tonic 100 ml di questo prodotto più o meno su sephora vi costa 12 euro è un tonico lentivo ricco di nutrienti aiuta a tonificare ed equilibrare il ph della nostra pelle una cosa molto importante purtroppo tanti saltano questo passaggio ma è importante per passaggi dopo perché aiuta nostra pelle a ricevere in modo migliore i prodotti che applicheremo dopo si presenta così e olio di fiori concentrati sospesi una leggerissimo mix di essenza siero ideale per la pelle sprigiona freschi elementi vegetali per nutrire e idratare repristinando la luminosità vedremo come funzionerà secondo me già packaging è molto chic molto particolare perché vediamo queste piccole particelle che sono chiuse dentro questo gel all'interno molto molto bello prossimo prodotto e flash palm post estratto di rose e di olive si presenta così è un balsamo illuminante per il viso vedremo dopo in azione come funziona prossimo passaggio rose ceramic cream è una crema molto idratante rose oil blend guardate è un siero nella forma di olio quindi quale vostra preferenza se vi piace la consistenza di olio sul viso io non mi dispiace quindi lo utilizzerò sicuro e poi ultimi due prodotti è set makeup fixing mist e glow rose glow mist sono due bottigliette fatte così con spray si sono tutti due così e richiusi un spray qua vediamo che è un tipo bifasico perché si dividono due parti quindi dobbiamo di sicuro shaker arlo e l'altro invece fatto così questo possiamo usarlo prima di trucco per fissare per esempio meglio ombretto o anche dopo per fissarlo e questo prodotto invece lo utilizziamo durante tutto il giorno o dopo il trucco per rinfrescarlo per renderlo ancora più luminoso per riidratare la pelle ecco non so cosa dirvi ma sono talmente felice che se potessi adesso salterei e lo faccio appena smetto di registrare questo video perché petra mi ha fatto un mega 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 sorpresa sono stra felice spero che prodotti vi sono piaciuti anche voi che vi ho incuriosito un pochino adesso aspettiamo la sera quando ci sarà momento di bagnetto diciamo proveremo tutti i prodotti uno dopo l'altro e vi farò vedere mia prima impressione più o meno adesso vi saluto con questo trus mega mega comodo mega mega bello mega mega comodo e ci vediamo dopo ciao ok dopo che vi ho fatto vedere cosa c'è all'interno di questo trus adesso lo appoggiamo qui guardate che comodità se andiamo in giro possiamo appendere questo trus e resta lì tutti i prodotti abbiamo in ordine iniziamo ovviamente testare primo prodotto primo prodotto è ovviamente un gel viso rose cream cleanser iniziamo da crema detergente a base di una crema detergente nutriente formulata come potete vedere ha una consistenza particolare molto densa la applichiamo sul viso questo prodotto deterge nostra pelle elimina impurità ma la cosa importante che lo fa senza secarla arricchita con elementi vegetali che nutre nostra pelle e la rinforza all'interno troviamo olio di rose che rinforza nostra pelle ha un profumo veramente molto piacevole delicato di rose ovviamente all'interno abbiamo anche camomilla che legnisce nostra pelle e c'è anche un ingrediente importante e c'è anche un bellissimo ingrediente che io adoro olio di jojoba che rinforza nostra pelle ok abbiamo massaggiato adesso la sciacquiamo ho sciacquato e la pelle già al tatto mi sembra molto nutrita e pulita la sensazione molto piacevole passiamo al secondo round e adesso utilizzeremo il nostro tonico è un tonico a base di rose naturalmente lentivo e anche molto nutriente per la nostra pelle ha un profumo delicato e per 100 ml di questo prodotto dobbiamo pagare su sephora sui 12 euro riequilibra il nostro ph naturale della pelle è un passaggio molto importante che purtroppo tanti non fanno pensando che tanto il tonico non fa quasi niente non è vero possiamo applicarlo in due modi io a volte lo metto sulle dita e lo picchietto sulla pelle o potete usare un cotton fioc metterlo abbastanza abbondante e lo picchiettiamo sulla pelle in modo che tutti ingredienti nutritivi di questo prodotto tutte le proprietà vanno a agire sulla nostra pelle sensazione molto rinfrescante molto piacevole purtroppo la luce qua in bagno è scarsa quindi mi vedete un po male credo così mi vedete un po meglio ho aggiustato un po la luce e la pelle adesso è preparata per ricevere altri prodotti e tutti principi attivi che ci sono dentro altri prodotti e mettiamo sul viso questo è un rose caviar essence è praticamente un'essenza sembra il gel profumo è così delicato così piacevole lo massaggiamo sul viso questo prodotto deve idratare e anche rendere la nostra pella bella luminosa sensazione è favolosa perché da una sensazione di freschezza sul viso adoro queste consistenze così gelose così idratanti potete ovviamente metterlo sul collo e sul tè col tè e ricordatevi sempre le mani vi dico solo che all'interno abbiamo un mix esclusivo di young young geranio rosa girasole rosa damascena incapsulato per agire sulla pelle formulato con ingredienti ricchi di antiossidanti per ammorbidire affinare e tonificare la pelle senza profumo artificiale parabeni solfata alati c'è anche un estratto di anice che li equilibri la nostra pelle estratto di mora che la illumina e contribuisce a contrastare un discromie sulla nostra pelle quindi la pelle sembrerà più fresca più giovane più luminosa e quello che vogliamo ok passiamo un altro prodotto è abbastanza densa sempre questo profumo di rose molto delicato piacevole questo dovrebbe aiutare a eliminare segni di stanchezza sulla nostra pelle quindi qualcosa per me questa crema la consigliano prima del makeup perché prepara benissimo la nostra pelle per ricevere dopo altri prodotti o anche il trucco estratto di rose che anche riduce rossori sulla nostra pelle quindi se avete la pelle che tende a arrossirsi anche a segnetti è per voi e anche un levigante come olio di oliva adesso passiamo a queste favolose goccine è un siero ha una consistenza più liquida della crema quindi andrebbe messa secondo me prima della crema perché adesso dopo crema che abbastanza ricca abbastanza densa secondo me potrebbe far fatica a passare e nutrire la nostra pelle secondo me andrebbe messo un po prima migliora la luminosità della pelle donna alla pelle un aspetto riposato e luminoso ok qua abbiamo questo dosatore molto comodo e prendiamo proprio tre goccine picchiettiamo profumo un po più intenso sempre di rose sarà perché è più concentrato è già riassorbito però lascia questa pelle così bella luminosa molto piacevole al tatto e per ultimo abbiamo questa crema rose ceramic cream crema molto idratante non l'applico più sul viso la mettiamo sulle mani sul decolle perché penso che sul viso ne ho veramente tanti è più densa dell'altra sarà super super idratante è super super idratante e anche questo prodotto costa sui 30 euro e voglio dirvi che sono comunque prodotti tutti made in corea ok la mia skin routine è finita spero che vi è piaciuto se avete le domande scrivetemi seguitemi su instagram io adesso vado a leggere un po mio libro lascio che tutti i prodotti vanno penetrare la mia pelle la idratano e lavorano sulla mia pelle mi riposo leggo qualcosa con voi mi vedo in un altro video spero che questo vi è piaciuto se si lasciate pollice in su e alla prossima ciao tesori ciao 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 ciao